Buongiorno quella, me var Diego Buttiglione, quelli italiani chef Mazzarrioli. Dress, c'è una messa me e scepre drà, altasci. Dress, gavarche tot, zan martivi, zan gemmirelli, scatami nuggetsi da cartofi. It's very easy to make and make everybody happy at home. Dress guac Philip Air Fryer. E go bebo, esser, i dialuri topissimo, the best of the best that you can get at home. Esser, i dialuri imito zan zota svemas un dodo, like, scelba me, scelfi, scelba quen, scelba ce mi babuglia, everybody can cook with the Philips Air Fryer. The best thing of an Air Fryer, not scream, zota scream, zota calorie. e sarei ideologi in un'intenzione fitti, no? Summer, now, beach, swimming pool, quella onda, magari, allora, sarei, cioè, inizio, meglio bene. Accela, guardate, quella per e. È matola, quella per e. Allora, catami, poteto, supebi, deserti, fisci, 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 no, fisci. Vegetables. Chi dega, 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 gabice. Open. Put inside. Close. Start. Ah. Essari, laggi modelli, Phillips, ma gran Phillips chi dega, ec, XXL modelli. Città, tut. Ah. Ah. Essari premium XXL modelli. essere larghi modelli. Dov'è essere argomento da zandi idea? We're going to use it, this one. Both amazing, both supermodel. Allora, let's start with the katami. Vierveli, katami d'agra. D'agra, cubichi. Sotta, ogro, popcorn. Cueni katami d'agra, et la sotta da marinateli. Allora, sotta da marinati, quindi da marinati. Sotta, oil. Sotta da marinati. Da pepe. Mix. And we put away. Esa è la cartofina. Ecco, i dialuri o airfryer imito quella per i, massimo os dati tutti. Sceleba quella per i gavacchetto, massimo os dati tutti. E fasti, fasti. Fasti. Go home. Eat very fast. Put everything inside. Ciamen. Midi. You know, like zan. Zanjka. Ecco, gavacchetto. Cueni kartofili. D'agra mere. Gwinda, wash. After wash. Gwinda, adrogeba, sami zuti. In the time that potato boil, da gavacchetto, cueni mayonesi. Cueni gaka diet, sotta utznauri mayonesi. Aloe. Esa è coconut oil. Da chili paste. We put eti, ah ori patara cosi, coconut oil. Ok. We put on the fire. Mere, eti patara cosi, uh, chili paste. Tommi. Esa i cieni, uh, sauci regor mere mix, mix, maionese stamp. Esa è coconut. Da chili paste. Da sotta scali. Mere, we put in the mayonesi. Sotta zetti. Sotta paprika. Da sotta mario. Giampi, giampi. Air flour. Ceni air fryer. Acari, frozen potato. Daki da guac, homemade potato. Cueni da, homemade potato. Open. Cueni. Cueni potitoli. Open. O zizi, zizi. Ando scatami, uh, gavaceto. Cueni, uh, preparo cueni katami. Cueni marinatevi. Cueni marinatevi. Eccola guacca. Pili, quersi, da panko. E se il panko. Non ce le va. O gocce midi di bebea. Old bread. Hard bread. And then asking to my grandfather, Diego. C'è mio grandfather. Midi, midi. And my grandfather was like doing the bread cramp with the old bread. So we can use the old bread as well. Allora. Quersi. Panko stanna. Sotta svaneti marilli. Mezzamon son svaneti marilli. Sotta. Sotta sotta. Katami. Sotta secreti ac. Margini marto querzi. Marzni quili da panko. I will show you why. I will show you why. Pili. Ac. Margini. Ac. Marzni. Imito i zira. If you do everything with one hand, after your hands it's going to look like the chicken nuggets. You know? Put it in the egg. Then you put it in the panko. Cioni katami mzada. Chieder frazuti. Catole limoncette da atti zuti cioni katami. And smarto light maionese. Romelli scellebar by everywhere. Everywhere. Lighto. Osdarwa per centi fat less. Ercolà. We take our little sauce. We add one spoon into the mayonnaise. Limoni. Sotta limoni. And we mix. Cioni dressing finito. Pronto. Light dressing. Sotta spicy. Sotta light. Ori zuti. Cioni katofli. Ready? Da atti zuti. Cioni chicken nuggets. Cioni katofli. Marciad. 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 E senzeti. Nakhir anminizit zan zan zuta. Take this. Touch. One. Two. Three. One. Two. Three. Eti for zan. So more chat. Eseri. Maximo zeti. Undar. Katami. Potato. Together. No need to wash. One plate. You don't have to have many pans. Bevitrap. Arginda. Eti. Er sheleba. Dishwasher. Zan martivi. Dishwasher. Potato. One. Fatara kitchen. No problem. You have fill it. They cook everything for you. Ciongak. Sameti regimi. Ecco. Ciongwinda. Eti. Taci. 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 Suni. Ara. Like math. Ara. Like. No. Zero. Zero proprio. Niente proprio. Screli. Ara. Cia. Niente. Niente. Cia. Not screli. Nossuni. Cia. Fresh. Proprio. Here. Nothing. Like you can select this. You know. And you can talk. You can be with somebody. And then. Kide. Guac. Security system. Overheating. It's not gonna explode. Apetkeba. Arsheleba. Cianseara. I mito guac. Security system. E scartote. Magari. Zaa. 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 Eh? No fat. Mamma mia. Tizzutti. Eh. Eh. Super crunchy. Can you put that? Abba. Can you. Can you listen? It's like fried. But it's not fried. Do you understand? Gai Gai. Fried but no fried. Cia. Naturaluri. Fat free. And conservanti free. Anything free. Like. You know like. Naturalissima. Katami. Hair. Together. Fried. Amici. Esari. Zaa. Zaa. Fancy. Magam. Zaa. Practiculi. Esari. Zaa. Magari. Katami. Zaa. 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 Sal Hearing. Joe. Ah they see? Zaa. Zaa. Saa. Zaa. I want to finish telling you for one more time chide ehdi, malli. E se hai calori, martellate e scatami, ok? If you fry it's almost a grammi di fatti. E se c'è anche tutti grammi, altri grammi di fatti. C'è anche c'è anche un grammi di fatti. Phillips is the best friend for us to be healthy. A bagai singe c'è me scatami. Mamma mia, oh! Crunchissimo, and inside, still soft. Guys, magic, martellate. So, 20 mesame episodi di Asmorchot. Kid Guac Beverly Recipe with Alta, in this beautiful kitchen. With a lot of more new products. Kid Guac Beverly Productions with a Beverly Recipe. Stay tuned with Alta Page. And from me, and from Cemi, Zan, Gamirelli, Katami, and Ceni, Megobari, Phillip. Ciao! Ciao!